Oggi faremo l'estrazione di DNA da un organismo vivente e prendiamo come esempio un frutto come il kiwi. Qui siamo nel laboratorio di biologia dell'Università di Pisa, ma quello che andremo a fare lo potete benissimo fare anche nelle vostre scuole e ripetere nelle vostre case. Andiamo innanzitutto a descrivere il materiale che serve. Un kiwi abbastanza maturo, un coltello, un sacchetto di plastica abbastanza robusto sigillante, del sale da cucina fino, un cucchiaio da tè, del sapone liquido per piatti o per le mani, tre strati di garza, un elastico, dell'alcol isopropilico, ma va benissimo anche l'alcol che si trova nei supermercati e che viene utilizzato per la preparazione dei liquori. Tre baker, ma vanno bene anche dei piccoli bicchieri, un contagocce, un cilindro graduato e poi dell'acqua deionizzata. Può essere utilizzata al posto dell'acqua deionizzata anche l'acqua demineralizzata, che non è altro che l'acqua che si trova nei supermercati e che viene utilizzata per metterla nel ferro da stiro. Cominciamo con lo sbucciare il kiwi, utilizzando il coltello e facendo attenzione a non tagliarvi. Si taglia il kiwi in piccoli pezzi, si elimina la parte centrale bianca più dura e a questo punto i pezzi di kiwi vengono inseriti dentro il sacchetto di plastica. Si sigilla il sacchetto facendo attenzione a fare uscire l'aria. Con le mani si frantumano i pezzi di kiwi schiacciando il contenuto per circa due minuti. Nel frattempo che si frantumi la polpa possiamo preparare la soluzione salina mettendo un cucchiaio da tè di sale fino in un bicchiere con circa 100 millilitri di acqua, mescolando fino alla completa scomparsa del sale. Quando la polpa è stata ridotta in poltiglia aggiungiamo 10 millilitri della soluzione salina misurati con il cilindro dentro il sacchetto contenente la polpa. Sigilliamo di nuovo il sacchetto e frantumiamo ancora la polpa per altri cinque minuti. A questo punto possiamo preparare la soluzione del sapone liquido diluito mescolando tre cucchiai di sapone liquido in circa 30 millilitri di acqua. Mescoliamo il detersivo all'acqua facendo attenzione a non formare la schiuma quindi giriamo il cucchiaino molto lentamente. prendiamo i tre strati di garza sovrapposti e li poniamo sopra un bicchiere in questo modo fermando il tutto con un elastico in questo modo. Filtriamo la polpa versandola sulla garza un po' alla volta e aiutandoci con il cucchiaino. Aggiungiamo altra polpa cercando di recuperare il più possibile di filtrato. Eliminiamo la garza e nel filtrato aggiungiamo circa 3 millilitri del sapone liquido diluito aiutandoci con il contagocce e mescoliamo i contenuti con il cucchiaino. Bisogna aggiungere al filtrato una quantità circa doppia di alcol che come abbiamo detto può essere alcol isopropilico, l'alcol utilizzato per produrre i liquori. Facendo attenzione però a non mescolare i due liquidi perché hanno, dato che l'alcol è più leggero al miscuglio, si formano praticamente due strati. L'operazione consiste nell'inclinare il bicchiere contenente il filtrato e nel versare lentamente l'alcol. È preferibile che l'alcol sia molto freddo, quindi vi consiglio prima di iniziare l'esperimento di mettere una piccola quantità di alcol, la quantità di alcol necessaria, in un frigorifero, meglio ancora in un congelatore. L'alcol fa diventare il DNA insolubile che quindi diventa visibile tra i due strati che si formano. Se potete vedere si forma uno strato di alcol sopra e sotto rimane il filtrato. Tra i due strati di liquido è presente del materiale gelatinoso. Questo è il DNA che è stato reso insolubile dall'alcol freddo. A questo punto possiamo anche recuperarlo con una bacchetta di vetro oppure con il semplice cucchiaino da tè. A questo punto possiamo anche recuperarlo con una bacchetta di vetro.